ita est e così si dice catone postulat etiam facultatem profitendi nomen in absenzia postulat chiede etiam anche facultatem la facoltà la possibilità profitendi nomen di presentare la propria candidatura nomen profiteri significa presentare la propria candidatura in absenzia in sua assenza misit enim continua catone riferendosi a cesare litteras ad senatum infatti enim ha inviato una lettera al senato oratum per chiedere ut sibi decerneretur et facultas profitendi et triunfus per chiedere ut sibi decerneretur di farsi assegnare che gli venisse assegnata sia la possibilità di candidarsi facultas profitendi sia il triunfo al che cicerone commenta facilius dictu quam factu cato facilius più facile a dirsi dictu quam factu che a farsi catone a questo punto evidentemente provato dal caldo del calidarium catone esorta l'amico cicerone a trasferirsi in un'altra sala satis in calidario basta nel calidario basta con il calidario spiratum e amus in frigidarium cicero andiamo e amus spiratum a respirare in frigidarium nel frigidario nella sala dei bagni freddi grazie a tutti grazie a tutti